Sì, sì, sì. Sì, c'è un poldro. Cos'è stato fatto? Guarda, ora ti mua. Non è in questa posizione. Telefonica. Qui sta? C'era? C'era il c'erro. Tutto ci sono i freddi. Buudo, buudo... Tu si mogli stai giocando? O, no! ... ... ... ... . 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 No, 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 no.